Cari colleghi, cari igienisti, abbiamo preparato a Torino un congresso straordinario per tutti voi a marzo, a partire da giovedì 17 marzo vi aspetto a Torino, una giornata congressuale ricchissima di eventi, di manifestazioni, il corso, lo spazio ricerca per gli odontoiati, lo spazio ricerca per gli igienisti, l'incontro degli ex allievi del corso annuale, la festa, vi aspetto davvero, venite sarà un'occasione straordinaria per condividere con voi un tema fondamentale, l'appropriatezza delle cure parodontali e implantari, vi aspetto parodonto e impianti da giovedì 17 marzo a Torino con CDP, a presto! Grazie a tutti!